Morfetta ci siamo, la Night Run è arrivata, terza edizione, competitiva? No, assolutamente non agonistica, gioia, musica e spettacolo, questi sono gli ingredienti che vogliamo dare a questa manifestazione, noi come free runners che siamo nell'ambito sportivo da sempre e Studio 360 come organizzazione. È una corsa amatoriale dove migliaia di persone invaderanno le nostre strade, ci sarà una riappropriazione dei luoghi comuni, dei nostri spazi pubblici ed è una grande gioia ritrovarsi tutti insieme e vale la pena quindi lasciare i mugugni e le auto alle proprie case per avere questa giornata d'incontro e di grande festa per le vie della città. Morfetta sta vivendo un momento di rivitalità sul piano dell'accoglienza, di un turismo sostenibile e quindi di una riappropriazione anche degli spazi pubblici per cui sabato 15 giugno avremo questa giornata bella, viviamola in allegria e soprattutto via le macchine e utilizziamo il nostro corpo che è il nostro patrimonio migliore. È previsto un parcheggio per i partecipanti provenienti da Giovinazzo all'altezza del Paolo Poli e per quelli provenienti da Biceglie alla Secca dei Pali a Rione Madonna dei Marti con relative chiaramente navette. Per quanto riguarda gli attraversamenti della città per chi viene da Biceglie è consigliabile farsi via caduti sul lavoro e poi la parte alta della città, mentre per chi viene da Giovinazzo viale 25 aprile è la parte alta della città. Per i residenti nel centro abitato, al centro della città sarebbe opportuno che non utilizzassero nessun mezzo, ma se ci fosse una necessità sarà consentito dai volontari che ci saranno ad ogni incrocio o eventualmente dai colleghi che ci saranno su un incrocio, l'attraversamento del percorso in maniera molto celere. Vi aspettiamo per la Baby Night Run che abbiamo per voi riservato con partenza e ritrovo alle 17.30. I bambini la gioia è unica per loro e per noi che li vedremo lì scorrazzare per le vie del centro antico e poi a seguire i grandi, i più adulti, le famiglie. Ogni tipo di attività è sempre bella da vedersi quando si scorre lungo una città, il nostro lungomare e poi la chicca della manifestazione di quest'anno, lo Stadio Palopoli, illuminato a festa per noi, per noi tutti, per una grande molfetta. Vi aspettiamo alla Night Run edizione 2019.